Traversi, appena stato segnalato a Uriber Gerson. I simoni hanno finito una sanatoria. Lo sedete con cautela. Ehi! Sono nei guai. Mi hai derubata, Fred. Fred! Allora, qual è il piano? Fammi pensare. Papà. Hai detto che sei nei guai. Mi hanno sparato. Non hai nessun altro a cui rivolgerti, vero? Ma che ora ridi? Devi tornare. È stato un grosso errore. Voglio fare qualcosa di buono per i miei figli. Hanno già preso Mac. Mac non è abbastanza. Hai perso molto sangue? Sì, parecchio. Sei un criminale. Se lo sai davvero, perché sei sul... Diciamo che ho dovuto improvvisare. Fammi capire, sei un poliziotto. Tu credi di sapere cosa vuol? Allora, cosa facciamo? Conosco un tizio del bar. Ci porterà nel posto dove dobbiamo andare. Facciamo questa strozzata. Facciamo questa strozzata. Prendetelo e portatelo qua. Ti sto dicendo che io ho le calcagna! Siamo solo noi due per rispondere al cellulare. per non far morti mai. Per non far morti mai. Va tutto bene. Merda. Tutto quanto tornerà con la prima. Oppure posso andare a trovare Christine lì? Hai ancora i sogni? Vorrei che le cose non dovessero andare così. Senti!